Arte presa in giro Il consiglio zona 9 in collaborazione con l'associazione 67 Cultura ed Extravaganza presenta Arte presa in giro, ovvero Cosa contraddistingue un'opera d'arte da un semplice pezzo di monnezza? Mostra performance di Pasqualino Conte e Patrizia Fini dal 10 aprile al 1 maggio Via Volturno 35 Isola Milano e il 1 maggio un altro 1 maggio con Gianluca De Angelis, Varte Leonaldi, Flavio Pirindo, Merito Conte Palco aperto per tutti!